ho sentito un suono un drone che si sollevava in volo mi sono voltato a sinistra qui che vedete che fra l'altro una ferita al collo e ho girato la bici e ho visto il drone che volava dritto così ho girato ancora a destra e a quel punto mi ha seguito ho girato a sinistra e ha continuato a seguirmi hanno iniziato ad avvicinarsi e a filmarmi ho realizzato che avevo un fosso alla mia destra e quindi mi sono spostata più a sinistra a quel punto il drone ha sganciato l'esplosivo che mi è caduto addosso la granata mi è caduta addosso e poi esplosa vicino ai pedali mi sono rannicchiata più che potevo ed è per questo che sono ancora viva se non l'avessi fatto sarei morta in quel momento la granata era piena di schegge di titanio che i dottori non sono riusciti a restrarle tutte non posso stare in piedi perché le schegge sono penetrate nelle ossa dovrò conviverci adesso dice farò suonare tutte le porte dei supermercati in quel momento ho pensato che dovevo pedalare più veloce che potevo per sopravvivere perché sono una mamma di due bambini i droni mi hanno attaccato due volte una venerdì ma sono riuscita a scappare via in tutta la mia vita non avrei mai immaginato di correre così veloce e il giorno successivo il secondo drone mi ha colpito mi hanno filmato quel giorno e hanno pubblicato l'immagine sui loro siti il trafiletto dice un giovane soldato corre in bicicletta questo soggetto è stato definitivamente eliminato per adesso è stato gravemente ferito e non permettiamo ai soccorritori di assisterlo gli invasori russi uccidono i civili pacifici distruggono le nostre città finché la russia continua a crescere la guerra in ucraina non si fermerà in russia vivono normalmente le loro vite e non si rendono conto come ci si sente a sentire bombardamenti ogni due secondi è necessario sanzionarli chiudere i confini russi e la nato deve chiudere il nostro spazio aereo i civili inermi stanno morendo e la nato si gira dall'altra parte salve amici e amiche ho aperto i video di oggi con questa testimonianza perché insomma ci racconta fondamentalmente due cose piuttosto frequenti quella che i russi continuano a colpire i civili e lo hanno fatto in questi giorni a kharkiv attaccano anche con i droni i civili ci sono tantissime testimonianze da questo punto di vista fanno fuori anche i cosiddetti soldati ucraini come che si arrendono prigionieri di guerra questa è una cosa vergognosa solo l'altro ieri è stata fatta un'esecuzione di massa contro questi soldati oggi un altro report che non vi posso mostrare ovviamente però queste sono le notizie che arrivano dalla russia fondamentalmente non ho mai sentito un'analisi così lucida come quella fatta da questa donna che con le sue parole mi ha profondamente colpito soprattutto quando ha detto che la nato dovrebbe chiudere lo spazio aereo ucraino non mi può trovare più che d'accordo voglio dire se la nato fosse intervenuta oltre due anni e mezzo fa per assicurare lo spazio aereo ucraino oggi tutto questo non sarebbe successo garantito andiamo avanti perché oggi ho diverse notizie da portarvi cercherò di affrontarle tutte in modo abbastanza sommario visto che comunque sono notizie fresche e devono trovare conferme sappiamo intanto ecco se parliamo proprio di conferme che l'aeroporto russo che di cui vi ho parlato ieri a boris kovlesk ci sono delle immagini satellitari che mostrano i danni in particolare gli incendi che si sono sviluppati a partire dalla zona sud est dell'aeroporto dove c'è l'apron militare perché la zona nord ovest è più era più parcheggio per gli aerei della scuola di volo gli incendi che si sono sviluppati sembrano essersi sviluppati dal deposito munizioni che ovviamente i russi non mancano mai di lasciare in bella vista quindi attendiamo ulteriori immagini per capire quanti aerei sono stati colpiti se sono stati colpiti però questa è la situazione quindi complimenti per l'ennesimo attacco riuscito da parte ucraina nella notte fra ieri e oggi sono state colpite fra l'altro due raffinerie raffinerie in pieno territorio russo una a perm qui guardate quanto è lontano dal dall'ucraina e l'altra nell'area di voronesk arrivano immagini filmate dai residenti che mostrano gli incendi andiamo avanti è stato condotto un attacco da parte ucraina nella regione di kursk precisamente nella città di kursk vi mostro la mappa di mayakosk che mostra proprio l'iconcina di questa mappa scusate no questa ed è stato colpito un edificio che al cui interno erano delle forze speciali c'erano sette ufficiali russi delle forze speciali quindi è interessante non tanto il fatto che gli ucraini abbiano raggiunto questa zona il che la dice piuttosto lunga sulle capacità di difesa aerea russa ma quanto il fatto che gli ucraini sapessero che c'era movimento interessante un bersaglio strategico un obiettivo sensibile proprio lì quindi è una notizia interessante soprattutto per il retroscena possibili ed eventuali parliamo della situazione sul fronte ucraino allora non ci sono grossi cambiamenti nella regione di kursk è tutto piuttosto invariato se non il consolidamento nell'area di veselo è da parte russa c'è stata lo avevo già accennato due giorni fa sono riusciti a liberare la porzione occupata dagli ucraini qui in quest'area mentre i progressi di questi due giorni in realtà da parte russa sono soprattutto nella legione di vuredar nella loro proiezione verso kurakov che è l'obiettivo più importante che possono raggiungere in questi giorni che non è certamente pokrovsk anzi la loro spinta verso pokrovsk è ormai ferma da settimane non stanno avanzando verso pokrovsk in realtà quello che stanno facendo i russi invece è che lentamente stanno riuscendo a chiudere la loro posizione in quest'area a nord di kurakove e adesso cercheranno in qualche modo di chiudere il settore anche qui questo lo stanno facendo con una manovra attenaglia che sta avanzando qui questa in questa modalità e poi ci sono stati dei progressi diretti verso kurakove come vediamo che sarà un obiettivo piuttosto difficile da catturare vista la conformazione geografica orografica del terreno scusate altri progressi li hanno fatti diretti verso toresk come vediamo c'è stato un ulteriore sviluppo e conquista di quartieri da parte loro quindi si approcciano al centro cittadino però questa è la situazione per quanto riguarda il fronte ucraino spostiamoci per alcune notizie di correlate da parte del kiev post si segnalano diversi tentativi di diffondere notizie false sugli f16 ucraini da parte russa l'impianto di propaganda di messa in giro di informazioni false si sta adoperando per diffondere quante più notizie false sugli f16 secondo cui non sarebbero adeguati sarebbero vecchi sarebbero incapaci di fare ruoli significativi nel conflitto ora chiaramente queste queste voci si commentano piuttosto da sole nel senso per chi ha un minimo di conoscenza di cosa è un f16 sa benissimo che definirlo un aereo datato è un po insomma quasi ironico da parte russa visto che utilizzano la stragrande maggioranza dei loro aerei sono tutti progetti degli anni 80 90 se non precedenti visto che i loro bombardieri sono anche più vecchi quindi no il ruolo degli f16 al momento in ucraina è quello di proteggere lo spazio aereo ruolo primario è stato annunciato mesi fa ed è quello che stanno facendo adesso con ruoli di interdizione di tutti i droni e i missili da crociera che vengono lanciati sul suolo ucraino chiaramente sono pochi attualmente si sta facendo addestramento si continua all'avvicendamento dei piloti per qualificarli alle mansioni che le f16 può svolgere ma sicuramente un ruolo principale di questo aereo con il suo pod ecps quello anche di guerra elettronica che può funzionare soprattutto nel ruolo di ricognizione infatti la il complesso sistema avionico dell'f16 è in grado di fare una ricognizione tattica del campo di battaglia andando a rilevare e geolocalizzare tutte le minacce missilistiche russe parliamo dei sistemi di difesa e poi può trasmettere questi dati a chi di dovere per gli attacchi specializzati quindi è un ruolo da sottovalutare assolutamente continuano poi attacchi misteriosi all'interno del territorio russo in questo video che non vi posso mostrare vediamo un personaggio misterioso uno dei tanti dare fuoco a edifici per il reclutamento gli uffici per il reclutamento bene passiamo avanti e passiamo a parlare delle notizie sul campo in israele allora prima di fare questo ringrazio tantissimo maya kosk sei veramente un grande perché non solo ci porta la mappa sullo scenario ucraino ma anche quello israeliano con dei dati aggiornati e geolocalizzati di cui andremo a parlare allora ripeto maya kosk è in italiano ed è fra l'altro veramente gentile ho avuto modo di parlarci un pochino e lo ringrazio soprattutto per rendere disponibili queste mappe a titolo gratuito fra l'altro vi passo questo link se volete offrirgli un caffè consiglio di farlo è il modo un po per dirgli grazie ora questa mappa che ci mostra è stata aggiornata ripeto ci ci mostra per esempio gli attacchi di due giorni fa con il massiccio attacco missilistico da parte dell'iran ai danni di israele faccio una rettifica quando ho detto che tutti i missili sono stati intercettati e quelli non intercettati sono stati scelti per non essere che non rappresentavano una minaccia ora la rettifica è che chiaramente gli scudi missilistici israeliani coadiuvati con l'aviazione nato e tutta la flotta della nato schierata in campo hanno fatto una selezione degli obiettivi ma a parte questo comunque l'attacco iraniano ha puntato tutto sulla saturazione per cui 200 missili balistici comunque hanno messo in crisi il sistema israeliano e alcuni missili sono passati si parla di una stima del 60 70 per cento di successo ora sfatiamo qualche mito per quanto riguarda la difesa missilistica intanto è chiaro che non si lancia un solo missile per intercettare un missile non funziona così si deve avere la certezza di abbatterlo quindi immaginiamo che per ogni missile che arrivava sul territorio israeliano ne venivano lanciati diversi per intercettarlo poi l'intercettazione avviene su più livelli in ogni caso comunque 200 hanno messo in crisi e alcuni sono passati e lo sappiamo perché hanno colpito fondamentalmente due basi la base di neratim e la base di avda che adesso andiamo a vedere i danni perché ci sono delle bda che ci mostrano appunto i report dei danni inflitti a queste basi militari allora sfato un mito per quanto riguarda i missili iraniani dato che ne ho sentite un po di tutti i colori anche nei commenti che ho ricevuto allora partiamo col dire col definire un attimo cos'è l'ipersonicità perché ho sentito questo termine abusato troppe volte per ipersonicità si intende per definizione tutto quello che va oltre mach 5 ok perché poi questo valore è importante lo vedremo però per ipersonico si intende qualsiasi oggetto volante che supera mach 5 però non basta in realtà perché se dobbiamo considerare ipersonico tutto quello che vola oltre mach 5 allora anche le v2 tedesche del 43 erano ipersoniche perché qualsiasi missile balistico che raggiunge lo spazio deve per forza superare quel valore anzi molto molto di più per raggiungere lo spazio si parla di velocità nell'ordine dei 20.000 25.000 km orari tantissimo tanta roba insomma mach 25 mi dà un'idea di quanto lontano da mach 5 ovviamente non basta essere così veloci per essere supersonici il cosiddetto valore di mach 5 è importante quando si parla di questi oggetti perché per i per me oggetti ipersonici si intendono in realtà oggetti che hanno il cosiddetto motore esotico che è uno scrumjet questo tipo di oggetto qui cioè che è spinto da un booster un missile convenzionale che lo porta a quella velocità al cosiddetto valore di mach 5 dopodiché a quella velocità il motore esotico inizia a funzionare cosiddetto scrumjet che cos'è lo scrumjet immaginiamolo come un motore tradizionale che però inizia a funzionare quando il flusso d'aria in entrata è ipersonico quindi raggiunge quelle velocità a quel punto il motore esotico può iniziare a operare a funzionare al di sotto di mach 5 non funziona non è come i motori dei jet di linea che possono partire da fermi il motore scumjet funziona solo oltre a partire da mach 5 quindi ha bisogno di una presa d'aria e a quelle velocità viaggia poi chiaramente ci sono altre definizioni nel senso che l'oggetto a quelle velocità ha superato mach 5 in teoria non avrebbe neanche bisogno di una testata perché basterebbe la sua energia cinetica come esplosivo è equiparabile a qualche centinaio di chili di esplosivo di tnt ora i missili iraniani che hanno colpito israele israele erano ipersonici nel senso che chiaramente come missili balistici possono superare quel valore di velocità ma non ne avevano motore esotico e qui entriamo nell'altra definizione per cui il motore il cosiddetto oggetto miss l'arma ipersonica può essere considerata in due categorie uno è cosiddetto oggetto come questo che ha lo scrumjet ok questo tipo di oggetto che ha la presa d'aria al motore esotico e viaggia come caratteristiche di volo possiamo definirlo quasi come un missile da crociera un aeroplano che viaggia tendenzialmente in linea retta anche se può manovrare però comunque viaggia come un aereo da un punto di vista di quota fra l'altro la quota è importante quando si parla di missili ipersonici perché possono viaggiare a questi valori di velocità cioè un oggetto può viaggiare a mach 5 per un lungo periodo di tempo solo in alta atmosfera perché in bassa atmosfera l'aria è estremamente densa li scioglie letteralmente gli offre troppa resistenza quindi l'altra categoria invece sono i cosiddetti e gv hgv che sarebbero hypersonic glide vehicles cioè degli oggetti plananti ipersonici questa un po la rappresentazione sono hanno questa forma più o meno cioè in cosa consistono sono una sorta di piccola navetta che viene spinta nello spazio da un missile tradizionale dopodiché quando raggiunge lo spazio inizia a planare a velocità ipersoniche ed è in grado di manovrare con delle ali a una forma aerodinamica e può in qualche modo manovrare ora quindi capirete che questo è un oggetto diverso dal missile ipersonico come per esempio lo zircon russo è una forma diversa lo zircon è considerato appunto alla stregua di un missile da crociera viaggia in maniera lineare cioè non sale di quota non scende per questioni aerodinamiche e di termodinamiche mentre il glide l'hgv è in grado di fare delle manovre un po più complesse perché ovviamente lo spazio offre non offre resistenza aerodinamica e l'oggetto può attraverso una serie di motori che qui dobbiamo vedere se si tratta di booster rcs sono comunque oggetti sperimentali che possono in realtà fare delle traiettorie complesse vediamo se pesco un'immagine ok quindi in questo schema vediamo se riesco ad allargare la mostro meglio in questo schema vediamo la differenza proprio fra questi tipi di oggetti ok dove vediamo per esempio in giallo quello che può fare un missile ipersonico un oggetto tipo zircon un oggetto con motore esotico dove viaggia più o meno in alta atmosfera può fare dei zig zag mantenendo più o meno quella quota per appunto restare nei termini di tolleranza delle temperature sopportate in questo modo manovrando avendo a disposizione tanto carburante da poter usare perché la differenza qual è che un booster o un motore a propellente liquido si porta dietro tutto il carburante ossigeno liquido idrogeno quello che è per bruciarlo quasi istantaneamente dopodiché plana mentre il missile ipersonico col motore esotico si porta a metà del carburante perché l'altra metà la attinge dall'atmosfera quindi ha più autonomia che carburante è spinta che può spingerlo per più lungo nel lungo periodo di conseguenza il motore esotico garantisce più manovrabilità in questo senso più efficienza rispetto al classico missile tradizionale quindi in questo modo l'oggetto ipersonico che viaggia in alta atmosfera in modo classico in stile appunto missile da crociera può fare delle manovre per evitare le zone di maggiore intensità della difesa aerea quando poi arriva sul bersaglio chiaramente deve fare quello che fanno tutte le armi terra terra o aria terra cioè deve scendere per colpire qualcosa al terreno nel momento in cui scende verso il terreno cosa fa incontra la l'atmosfera più densa l'aria è molto più densa di conseguenza deve rallentare a quel punto l'oggetto rallentando si spegne cioè deve perde la possibilità di usare il suo motore esotico di conseguenza plana a velocità che sono dettate dalla resistenza aerodinamica nel tratto finale questi oggetti non volano molto oltre la velocità del suono altrimenti si scioglierebbero esploderebbero direttamente come avviene letteralmente a una stella cadente i piccoli meteoriti che colpiscono il pianeta ogni giorno viaggiano a velocità anche superiori 25.000 30.000 chilometri orari di conseguenza si sciolgono per l'attrito quindi il missile personico quando raggiunge il bersaglio a prescindere questo è di qualsiasi missile si tratta qualsiasi missile quando raggiungono il terreno rallentano ed è in questo punto che tutti gli sforzi della difesa missilistica si concentrano e nel punto in cui il missile è più vulnerabile ed è possibile intercettarlo in questo schema vediamo appunto terminal phase e qui che vengono intercettati e possono essere intercettati come tutti gli altri missili tradizionali è chiaro che questi missili quando tecnologici come quelli iraniani hanno possono avere delle alette che gli permettono di fare aggiustamenti di correzione sul bersaglio se devono puntare un edificio cercheranno di aggiustare la propria traiettoria per essere più precisi possibile ma non possono evadere un ingaggio non possono cambiare completamente direzione a quello che stanno facendo la direzione è quella è dettata dalla energia cinetica che hanno accumulato e l'energia potenziale di caduta l'accelerazione e decelerazione dovuta dall'attrito della dell'aria di conseguenza dobbiamo immaginare questi intercetti su oggetti normali che piovono dall'alto né più nemmeno fra l'altro il vantaggio dei missili ipersonici qual è e che sono veloci cioè riducono i tempi di reazione di identificazione e ingaggio il vantaggio di un oggetto come uno zircon o il maco anche americano che sarà equipaggiato dagli f35 e che può manovrare quindi diventa più elusivo ma ripeto può manovrare durante la navigazione non nel tratto finale dall'altro il vantaggio della difesa misilistica è che partendo da terra i missili per l'intercetto lavorano in aerodinamica lavorano con l'aria hanno più efficienza aerodinamica di questo di conseguenza non è non è che i missili per intercettare i missili non manovrano anzi manovrano meglio dei missili intercettati è chiaro che però se ne lanci 200 diventa un discorso di saturazione per quello che tanti missili iraniani sono passati per quanto riguarda l'hcv i cosiddetti gliding vehicles questi oggetti funzionano in modo un po più articolato è chiaro che se sono nello spazio vengono lanciati nello spazio vedete qui c'è la differenza fra la parabola di un missile balistico assolutamente prevedibile tradizionale è un cosiddetto hgv l'hgv cosa fa viene lanciato sempre come un missile tradizionale a livello balistico raggiunge l'altra atmosfera dopodiché ha dei motori generalmente sono motori di derivazione missilistica tipo spaziale hanno rcs o piccoli motori di spinta che gli permettono di fare delle correzioni questo gli dà la possibilità di cambiare traiettoria di avere degli approcci più elusivi sul bersaglio però comunque torniamo sempre al discorso finale per cui un missile del genere nel momento in cui deve raggiungere il bersaglio dovrà dovrà comunque di per forza di cose scusate si è aperto qui c'è la definizione per forza di cose scendere a quel punto potrà essere intercettato come tutti i bersagli terza categoria si parla di marv cioè quello che vorrebbero essere i missili iraniani che funzionano esattamente come un missile balistico tradizionale traiettoria balistica il primo stadio serve a questo il grosso tubo quello principale serve a spingere nello spazio e a compiere una parabola balistica nel momento in cui si sganciano il primo stadio si sgancia e lascia solo la la testata principale vediamo se riesco a beccare ecco questa l'immagine questo oggetto la testata inizia a planare verso il bersaglio in maniera balistica poi è chiaro a queste piccole alette va bene queste alette se vediamo la forma aerodinamica non sono quelle di un missile da crociera stiamo parlando di un oggetto che può manovrare per permettergli di essere preciso sul bersaglio fa delle piccole correzioni in fase discendente stiamo considerando una discesa dallo spazio quindi abbiamo visto le immagini degli impatti le avrete viste su telegiornale scendevano con un angolo di picchiata estremamente alto quindi in quelle circostanze non è che possono fare grandi cambiamenti di rotta faranno delle correzioni per aggiustare il tiro ok per essere quanto più precisi possibile come vedete in questa fase per la definizione un cosiddetto marv può fare delle correzioni elusive sulla propria traiettoria però solo nel tratto terminale e comunque è qui che si concentra il grosso delle degli sforzi per intercettarlo queste cose siano innovative nì fino a un certo punto nel senso sicuramente gli sviluppi dei materiali stanno facendo progressi e permettono di raffinare quella che è la tecnologia sui motori esotici che non è nuova e non l'hanno inventata i russi e sono concetti che esistono dagli anni 60 e i test sono iniziati negli anni 60 in america esistono sono stati condotti tantissimi progetti e test sperimentali da parte americana soprattutto però insomma ci sono i pro e i contro nel senso è estremamente difficile lavorare sui motori esotici farli funzionare in modo efficiente e comunque resta il fatto che le difese missilistiche non stanno lì a guardare e concentrano comunque tutti gli sforzi per la fase terminale non ha molto senso ingaggiare un oggetto così veloce nello spazio se puoi ingaggiarlo quando rallenta no quindi oltre a questo poi ci sono tanti studi che sono vengono effettuati su armi energetiche insomma il discorso è molto molto complesso non si può semplificarlo e di sicuro gli iraniani non hanno una marcia in più rispetto agli americani cioè questo è un po scontato da dirlo voglio dire quindi vedremo è chiaro che ne sappiamo relativamente poco di questi missili però per quello che abbiamo visto due giorni fa una cosa che possiamo dire è che hanno sono riusciti a raggiungere il terreno grazie a un principio noto che è quello della cosiddetta saturazione nel senso se a terra ci sono dieci postazioni antimissile e tu lanci 100 missili contro il territorio è chiaro che queste arrivano al limite e a quel punto sono saturate qualcosa deve passare per forza di conseguenza la stima delle intercetti condotti da israele è che siano stati abbattuti 60 70 per cento dei missili tirati dall'iran ora sui danni riportati ci sono due basi che sono stati colpite in particolare tel aviv è stata raggiunta intanto ci sono dei video che mostrano gli schianti di questi missili uno in un campo a circa 500 metri dalla warehouse centro un edificio importante questo è un video insomma che mostra proprio il dardo colpire il terreno né più nemmeno creare un cratere altri impatti qui in un parcheggio voglio dire questi impatti dimostrano che il cosiddetto mrv mrv iraniano non è così infallibile e preciso voglio dire sono sta allora parere mio personale questi oggetti mi hanno ricordato molto un attacco con i classici missili scud che per definizione i scud rientrano nella categoria di artiglieria cioè nei lanci una valanga hanno un costo basso passano e fanno un danno ad area generico non sono attacchi proprio di precisione gli aeroporti di israeliani che sono stati colpiti appunto adesso vi mostro delle immagini che testimoniano i danni riportati uno è stato ovda ecco questi sono gli impatti i crateri generati da questi missili come vedete hanno colpito delle aree di raccordi taxi della pista non sono zone particolarmente interessanti forse questa è la zona della torre di controllo vediamo credo andiamo a vedere sulla mappa credo che sia stata colpita quest'area sì allora era questa è stata colpita poi i raccordi sì è stata colpita quest'area mentre l'aeroporto più importante che hanno colpito è stato più a sud la base di neva team che è una base sia per gli f35 che per la logistica infatti vedete sono schierati diversi 130 israeliani e questa è stata colpita sono appunto adesso vi mostro questa immagine che fa impressione questi sono i punti di impatto riportati circa 32 missili hanno raggiunto la base i danni inflitti difficile dirlo ma sappiamo per esempio che un hangar è stato colpito adesso vediamo avevo preso la foto questo hangar è stato colpito un attimo no questo hangar qui allora ecco qua questo hangar quindi questi sono stati i danni inflitti alla base sappiamo che gli iraniani hanno dichiarato che l'area è stata rasa al suolo che 20 f35 sono stati distrutti ma chiaramente le fonti iraniane in questo momento lasciano il tempo che trovano dovremo aspettare più informazioni precise da parte di israele passiamo a quello che è successo questa notte perché gli israeliani hanno fatto dei di strike a beirut infatti sta circolando questo video di questa esplosione nei pressi dell'aeroporto internazionale dove è stato la voce che circola è quella che è stato colpito il bunker di comando del vice di esbolla che stava prendendo l'incarico dopo che il suo superiore è stato fatto fuori qualche giorno fa la notizia della sua dipartita è da confermare quindi non sappiamo al momento se è vivo o meno insomma quello che è successo è che gli israeliani stanno continuando l'opera di bonifica di questa gentaglia che sicuramente non è tanto per la pace come i pacifisti nostrani che cercano di difendere i diritti dei palestinesi voglio dire in questi mesi io non ho mai sentito i leader di esbolla fare discorsi di pace o di diplomazia insomma quello che dicono è sempre la stessa cosa la stessa tiritera attaccare israele attaccare israele ci vendicheremo ci vendicheremo ok è chiaro che una cosa non ha non porta da nessuna parte quindi tornando la disco al discorso di maya kosko ci presenta alcuni aggiornamenti sull'avanzata di israele nella regione del libano queste geolocalizzazioni mostrano appunto video di soldati che stanno avanzando i classici carri armati israeliani i mercava in quella che questa è diventata la loro avanzata due giorni fa poi chiaramente arrivano altri video altre geolocalizzazioni però considerate che la mappa è appena stata costruita quindi tutto questo dovrà essere confermato lo seguiremo sicuramente cercherò di seguirlo nei giorni a venire per concludere altra notizia interessante che avevo già passato ieri e che israele pare abbia colpito la base russa di imeim in siria questa è una base fondamentale dei russi il loro punto diciamo di azione di operazioni per la siria come vedete in questa immagine in questa base sono presenti erano presenti diversi su 30 su 34 bombardieri tutta una flotta di su 35 e su 27 qua ci sono 4 su 34 un su 24 due su 35 un su 25 insomma il meglio che i russi hanno se parliamo di aerei per l'attacco al suolo caccia multiruolo anche se non hanno dei veri propri caccia multiruolo i russi questa è la situazione non sappiamo i danni che israele ha inflitto si sta parlando del deposito di punizioni più vicino alla costa e di circa 27 missili da crociera lanciati dalle navi israeliane non si tratta di un attacco aereo si parla fonti russe dicono che i sistemi s400 hanno intercettato questi oggetti però circolano i video degli incendi quindi bisogna vedere bisognerà vedere che che tipo di danni sono stati inflitti alla base ora chiaramente fa specie vedere israele attaccare la russia nel senso no nessuno gli ha dato l'autorizzazione però evidentemente un motivo c'è ora è chiaro che la situazione è molto difficile quindi tutto si sta evolvendo veramente in fretta vedremo nelle prossime ore comunque per quanto riguarda la russia quello che sta succedendo è particolare sinceramente questo vale solo prendetelo come opinione personale spero vivamente questo lo dico fuori dai denti che israele faccia una bonifica del leadership del terrorismo islamico onestamente Hamas va completamente neutralizzato in tutte le sue forme perché non c'è dialogo col terrorismo non è pensabile niente del genere quindi tra l'altro la popolazione palestinese ne sarebbe eternamente grata iraniani sarebbero molto favorevoli a un cambio di regime questo è scontato dirlo quindi più teste saltano meglio è da questo punto di vista e soprattutto la russia poi perderebbe un supporto strategico fondamentale per il suo conflitto in ucraina dato che continua a utilizzare da due anni e mezzo forniture iraniane dal momento che a quanto pare non può prodursi da sola i droni stupidi per fare i suoi attacchi aerei quindi è importante questa immagine mostra per esempio il tragitto che un Antonov da trasporto ha fatto per raggiungere la base ci dà un'idea del fatto che la russia non può sorvolare lo spazio aereo sul turco non è autorizzata lo farebbe a proprio rischio e pericolo e pericolo c'è visto che aerei russi sono stati già abbattuti dal sistema di difesa missilistico turco la turchia non la prende proprio bene con la russia in questo momento quindi il giro che è costretto a fare un aereo da trasporto per raggiungere la siria vi dà un'idea di come stanno le cose per la russia in questo momento bene amici e con questo è tutto come sempre se volete sostenermi sotto al video trovate tutti i bottoncini di youtube per darmi una mano iscrivendovi al canale lasciando mi piace fate voi facendo una donazione come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti un abbraccio alla prossima Grazie a tutti.